La melanzana dell'orto è il nostro piatto di tortelli ripieni di melanzana che nasce dalle nostre melanzane dell'orto. Vengono messe in forno, condite con sale e olio, coperte con la carta alluminio. Vengono messe in forno e cotte per una quarantina di minuti con la loro buccia. Poi vengono pelate, battute a coltello, anche lì ci viene aggiunto dell'olio e altre erbe aromatiche. Le andiamo a inserire in un tortello fatto con una base di uovo, di rosso d'uovo e semola. Quindi è una pasta molto dura, molto tosta. L'olio verde del collo è un olio biologico. È un olio dalle caratteristiche organolettiche importanti, nel senso che ha un'altissima carica di polifenoli. Ci può essere un sentore di carciofo, di rosmarino, tutto quello che viene dalla terra. Avendo un frantoio aziendale noi raccogliamo e frangiamo immediatamente, quindi nel giro di quattro ore questo olio nasce direttamente, cioè dall'albero alla bottiglia. Viene condito con del pomodoro, una crema di pomodori arrosto sempre, della fonduta di blu mugello, che è un erborinato di mucca, e della crema di olive. L'olio verde del collo ha avuto vari riconoscimenti, ha avuto vari premi, tra i quali olio capitale a Trieste, primo classificato, best in class a New York, e ultimamente tre foglie del gambero rosso.